Buonasera, in primo piano tra gli avvenimenti di oggi il dibattito parlamentare sulla situazione economica. Il Senato conclude domani la discussione sulla politica economica con una replica del Presidente del Consiglio Spadolini e con la votazione su un ordine del giorno presentato dai cinque partiti della maggioranza. Nell'ordine del giorno preso atto che il Presidente del Consiglio si è impegnato a fare presentare la legge finanziaria per l'83. Entro il 31 luglio di quest'anno, che in questa sede troveranno posto tutti i provvedimenti atti a una diminuzione del disavanzo, il Senato approva le dichiarazioni del Presidente del Consiglio stesso. Alla decisione di presentare l'ordine del giorno si è arrivati dopo una lunga riunione che si è svolta questa mattina dei gruppi della maggioranza, visto che i democristiani avevano chiesto che si affermasse che il Senato prende atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Alla fine il gruppo democristiano ha ceduto alle richieste degli altri partiti e ha accettato il testo dell'ordine del giorno proposto dal Partito Repubblicano, dal Partito Socialista, da quello socialdemocratico e da quello liberale. Nel corso della giornata di oggi si è svolta la discussione generale alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i gruppi e nel corso della quale gli esponenti dei partiti di opposizione hanno vivacemente criticato il governo e particolarmente il Partito Comunista ha sottolineato la debolezza politica della maggioranza. Non si esclude che il Partito Comunista presenti domani un ordine del giorno che suoni disapprovazione alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Delle dichiarazioni fatte al Senato dal Presidente del Consiglio si è occupato oggi a Verona il segretario generale della CGL Luciano Lama, intervenuto a un incontro provinciale dei delegati delle strutture del sindacato. Luciano Lama, come giudica le dichiarazioni fatte ieri in Senato da Spadolini circa la disdetta della Scala Mobile da parte dell'InterSinde? Su questo punto specifico della disdetta della Scala Mobile mi sembrano positive, mi sembra che Spadolini abbia confermato la posizione che aveva già assunto in sede di Consiglio dei Ministri quando si fu quella spaccatura con la democrazia cristiana che si distinse rispetto agli altri partiti. Sulle altre questioni non lo so, sono un po' più esitante, anche perché le notizie che appaiono sui giornali sono confuse, non sono chiare, ecco per me. Spadolini ha annunziato una nuova stretta fiscale, a pagare saranno sempre e soprattutto sempre i lavoratori dipendenti? Posso anticipare questo, che noi siamo assolutamente contrari a aumenti dell'IVA che non abbiano le loro ricadute naturali sulla contingenza nel caso in cui ci siano aumenti dell'IVA che si riferiscono a generi che stanno nel pacchetto della Scala Mobile. Quindi su questo punto non mi pare che sia stato chiaro Spadolini. Per quanto riguarda le tariffe, evidentemente noi non siamo favorevoli a aumenti delle tariffe che non tengano conto delle condizioni sociali di coloro che sono poi gli utenti dei servizi pubblici. Si tratta di sapere che cosa si vuole fare di quelle garanzie che oggi gli utenti dei servizi pubblici hanno nel campo del consumo dell'energia o dei trasporti e conquiste che noi naturalmente vogliamo difendere. In base ai dati dell'Istat pubblicati oggi dalla Gazzetta Ufficiale, i canoni di affitto delle abitazioni, aumenteranno dal primo agosto prossimo nelle seguenti misure. 11,4% per gli inquilini che nel 1978 avevano un reddito annuo superiore agli 8 milioni di lire e 9,12% per gli inquilini che sempre nel 1978 avevano un reddito inferiore. Dura critica dei radicali contro la stampa, i segretari dei partiti della maggioranza e contro la Rai TV per la scarsa attenzione nei confronti del progetto di legge di iniziativa popolare per salvare milioni di persone destinate a morire di fame. In una conferenza stampa era presente anche Pannella che sta attuando da 48 ore lo sciopero della sete a sostegno della proposta. I radicali hanno ricordato il disegno di legge che ha anche l'appoggio di 1.400 sindaci di alcuni vescovi, ma che attualmente appare arenato nella complessità del leader parlamentare. Ciò sostengono i radicali per una mancanza di volontà politica nel fare approvare la legge che prevede uno stanziamento di 3 mila miliardi. Mantenimento del cessate il fuoco garantito da una forza internazionale di pace. Ritiro delle truppe israeliane a 5 chilometri dalla periferia di Beirut. A queste condizioni, secondo Kadumi, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina accetterebbe di lasciare il Libano. Il probabile raggiungimento di un accordo non viene però confermato da parte israeliana. Gerusalemme ha invece protestato tramite la sua ambasciata a Londra per le accoglienze riservate dal Foreign Office a Kadumi, definito membro dell'organizzazione terroristica OLP. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono a Beirut dove si sono fatti sporadici i duelli di artiglieria tra israeliani e palestinesi. La situazione tuttavia permane grave. Scarseggiano beni di prima necessità, soprattutto cibi freschi e l'acqua errazionata. Il primo ministro libanese, Vazan, si è incontrato questa mattina con il negoziatore americano Philip Habib, riaprendo così le trattative interrotte alcuni giorni fa. 35 soldati israeliani hanno inviato una lettera al Premier Begin criticando la guerra. I militari affermano che l'unica guerra giusta è in difesa della vita e del suolo israeliano, mentre nel Libano sostengono si combatte una guerra di cui sono poco chiari gli obiettivi e che ha provocato e provoca vittime innocenti tra la popolazione civile. Da registrare infine la destituzione del sindaco di Gaza, Rashad Shawa, a opera del generale israeliano Luns, governatore della striscia di Gaza. Il responsabile dei servizi medici militari degli israeliani nel Libano, colonnello Pichan Harris, ha affermato stasera che i 6.000 palestinesi catturati durante le operazioni saranno processati come criminali dai tribunali di Israele. È imminente il trasferimento a Padova di quattro dei cinque agenti del nucleo speciale antiterrorismo della polizia accusati di violenza nei confronti di terroristi dopo la liberazione del generale Dojar. Solo uno di loro, ricoverato a Genova, sembra non essere in condizioni di poter essere trasportato a Padova. Nella prossima settimana gli agenti saranno interrogati e si conosceranno le motivazioni che hanno indotto il giudice Fabiani a ordinare gli arresti. Dell'istruttoria si parlerà lunedì nella riunione del Consiglio Superiore della Magistratura e domani in una riunione della Giunta Esecutiva Centrale della Associazione Nazionale Magistrati. Risulta invece senza fondamento la notizia riportata da alcune agenzie di stampa, secondo le quali si sarebbe dovuto tenere domani a Padova un vertice di magistratura democratica. Sciagura del lavoro oggi a Fondi in provincia di Latina. Il solaio in costruzione di un magazzino di ortofrutticoli è crollato su una squadra di operai, travolgendo insieme con altre dieci persone. Cinque morti sono già stati estratti dalle macerie e i vigili del fuoco stanno in queste ore rimuovendo tutta la mole dei detriti, nel timore che un altro operaio possa essere rimasto prigioniero del crollo e forse ancora in vita. Alcune notizie di sport. Calcio. L'incontro di finale del campionato del mondo tra Italia e Germania federale, che sarà disputato domenica sera alle 20 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, telecronaca diretta sulla Rete 2, sarà arbitrato dal brasiliano Arnaldo Coelho. La finale per il terzo posto di domani sera alle 20 ad Alicante tra Francia e Polonia sarà arbitrata dal portoghese Antonio De Silva Garrido, guardaline l'algerino Lacarne e il messicano Rubio, diretta sulla Rete 1. Tennis non è andata troppo bene per gli italiani nella prima giornata di Coppa Davis a Cervia contro la Nuova Zelanda. Nel primo incontro Chris Lewis ha battuto Corrado Barazzutti col punteggio di 3-6-6-1-6-4-6-3. Il secondo incontro tra Adriano Panatta e Russell Simpson è stato sospeso per l'oscurità al quarto set quando Simpson conduceva per 4-2. Il primo set era stato vinto da Panatta per 6-4, il secondo da Simpson per 6-3, il terzo ancora dall'italiano per 7-5. L'incontro sarà concluso domattina. Pugilato. Al termine di questa edizione del telegiornale ci collegheremo in diretta con Pineto negli Abruzzi per trasmettere la telecoronaca dell'incontro per l'assegnazione del titolo dei Pesi Gallo tra Walter Giorgetti e Roberto Serreli. A Pescara quinta edizione della mostra scrittori per il cinema dedicata ad Harold Pinter e Rodolfo Sonego, dei quali saranno proiettati 27 film e prevista una retrospettiva in ricordo di Ennio Flaiano, di cui ricorre quest'anno il decennale della morte. A Lanciano, in provincia di Chieti, si inaugura l'estate musicale Frentana, giunta quest'anno all'undicesima edizione. L'apertura della stagione, che si concluderà il 30 agosto, ha luogo al Teatro Excelsior con un concerto diretto da Salvatore Silvestro, in programma Petite Messe Solo Nel di Gioacchino Rossini. A Fano, nelle Marche, saranno in esposizione fino a domenica antichi volumi, incisioni, stampe, carte geografiche d'epoca. Il pezzo più prezioso della mostra è un volume realizzato in Germania nel 1493.